Buonasera a tutti. Oggi realizzeremo questa puleggia 3D su AutoCAD utilizzando un metodo diverso rispetto alle puleggie realizzate nei video precedenti. In particolare utilizzerò il comando rivoluzione per andare a rivoluzionare intorno ad un'asse centrale la metà della vista frontale che andrò a realizzare. Innanzitutto andrò a realizzare una linea che rappresenta il mio asse che sarà lunga 40 perché 40 è lo spessore della parte centrale della nostra puleggia. Sfrutterò questa linea anche per fare l'offset e andare a creare già le parti iniziali della nostra vista frontale. Quindi io avvio AutoCAD, disattivo la griglia e attivo Orto. Prima cosa da fare è andare a cambiare la vista, quindi da alto ci spostiamo in fronte. Quindi di solito noi partivamo sempre dalla vista dall'alto e poi con i comandi regione, estrudi, sottrai, unione andavamo a creare l'oggetto finito. Allora, innanzitutto realizziamo appunto una linea lunga 40, quindi comando linea dalla scheda di segna. Linea, clicco in un punto a caso, linea verticale di 40 mm, comando Offset. Adesso vado a fare una parallela, questo è il nostro asse, andiamo a fare una parallela che rappresenta questa linea qui. A che distanza la facciamo la nostra parallela? Ovviamente da questa quota capiamo che il diametro è 40, quindi dall'asse centrale fino al lato abbiamo la metà, ossia 20. Quindi Offset 20, primo invio. Prendo questa linea e la copio a sinistra. Questa qui la coloriamo di rosso, così è più evidente che questo rappresenta il nostro asse. Adesso un nuovo Offset, da questo punto a questo. Dobbiamo calcolarci questa distanza. Qui non la troviamo, diciamo, quotata, ma è abbastanza semplice da ricavarla. Allora, sappiamo che questo qua ha un diametro di 40, mentre questo ha un diametro di 100. Ovviamente basta fare 100 meno 40, otteniamo 60. 60 è la distanza che va da questo punto, da questo quadrante a questo, e da questo a questo. Quindi noi dobbiamo fare 60 diviso 2 per ottenere la distanza che va da qui a qui. 60 diviso 2 è 30, quindi l'Offset sarà di 30. Offset, 30, invio. Prendo questa linea e la copio sempre a sinistra. Qui possiamo già chiudere, facciamo un po' di zoom con la rotellina del mouse, possiamo già chiudere da questo punto a questo, con una linea, e da questo a questo. Dalla metà, dal punto centrale di questa linea, che abbiamo appena realizzato, farò partire una linea orizzontale, lunga, ovviamente fino a questo punto. Stesso discorso di prima, mi devo andare a calcolare questa lunghezza, quindi la distanza da qui a qui sostanzialmente. Ci basterà fare 234, che è il diametro di questo cerchio, meno 100, che è il diametro di questo, diviso 2. otteniamo 67, quindi la linea sarà lunga 67. Comando linea, clicco nel punto centrale, vado verso sinistra, 67, invio. Lo spessore di questa parte, allora questa parte di qua non lo vediamo quotato, ma è quotato qui, è spessa 10. Ovviamente noi stiamo al centro, quindi faremo l'Offset di 5 verso l'alto, e di 5 verso il basso. Offset 5, invio. Prendo la linea e clicco sopra, prendo la linea e clicco sotto. Siamo arrivati in questo punto. Questa parte in tutto è 36, quindi io dal centro farò partire una linea che va verso l'alto, lunga 18, e poi o la stirate verso il basso, sempre di 18, oppure ne fate un'altra, lunga 18. È la stessa cosa. Linea, da questo punto salgo di 18. Come vi ho detto prima, o stiriamo questa andando verso il basso di 18, oppure ne facciamo partire semplicemente un'altra verso il basso di 18. Ci manca la distanza qui, come la calcoliamo? Stesso metodo, 270 meno 234 diviso 2, ossia 18. Quindi la distanza da qui a qui è 18. 18, questo abbiamo detto che è 36, e 18. Ovviamente possiamo andare a fare i raccordi, perché come vedete qui ci sono un raccordo, due raccordi, tre, quattro raccordi, e anche qui ci sono dei raccordi. Il raggio di raccordi è uguale per tutti, quindi è 3. Raccorda. Ovviamente cliccate sul raggio, perché il raggio di questo comando è impostato di base a 0. Quindi raggio, come vedete c'è scritto 0. Inserisco 3 e primo invio, e vado adesso a raccordare tutti questi. Uno, due, tre, quattro. Ovviamente io sto ripetendo il comando premendo la barra spaziatrice della tastiera. 5, e sì. Siccome i raccordi sono tutti uguali, ho impostato il raggio di raccordo solo la prima volta, per il primo raccordo. Clicco su questa linea e la faccio sparire andandola semplicemente a cancellare. Qui devo tagliare questo pezzettino, quindi taglia. Invio per selezionare tutto come limite di taglio, e vado a tagliare questa parte qui. Come vedete abbiamo costruito tutto questo profilo. I fori li andremo a realizzare nella vista assonometrica, andando semplicemente a sottrarre dei cilindri. Però adesso siamo pronti ad attivare il comando regione, perché come vedete sono tutti elementi separati tra loro. Quindi io vado a scrivere regg, regione, premio invio per attivare il comando, seleziono tutto, e premio invio. Mi raccomando a leggere sempre la conferma qui sotto, creazione eseguita di una regione. La conferma sparisce dopo qualche secondo, però basta passare, eventualmente ve la perdete, basta passare sull'elemento e si dovrebbe illuminare tutto, come succede a me. Sono pronto a cambiare vista, quindi da fronte mi sposto in SO assonometrico, e ora posso attivare il comando rivoluzione. Quindi RIV, premio invio. Il comando rivoluzione mi chiede selezionare gli oggetti di cui eseguire la rivoluzione. Ovviamente, quali sono gli oggetti? Questo qui. Premio invio. Specificare il punto iniziale per definire, diciamo, dobbiamo definire un'asse. Allora, l'asse è questo qui, il punto iniziale è questo, il punto finale è questo. Come vedete, possiamo andare a scegliere di quanti gradi andare a creare appunto questa rivoluzione. È ovvio che noi dobbiamo mettere, dobbiamo inserire 360 gradi. Non occorre neanche scriverlo, perché vedete qui c'è già 360 gradi impostato di base, quindi vi basta premere invio. Vediamo con realistico cosa abbiamo realizzato. Abbiamo ottenuto la puleggia quasi completa. Perché quasi completa? Perché appunto mancano i fori. Quindi disattiviamo il realistico, impostiamo lo stile di visualizzazione wireframe 2D. E adesso dobbiamo realizzare un cerchio che ci consentirà, che è questo qui con diametro 160, che ci consentirà tramite, sfruttando i suoi quadranti, di andare a posizionare i quattro cilindri che poi successivamente andremo a sottrarre. Io il cerchio lo farò di colore rosso. Per poterlo orientare correttamente, come vedete, devo spostare l'asse Z verso l'alto. Quindi io clicco sugli assi, prendo il pallino relativo all'asse Z e lo sposto verso l'alto. Lo fate sempre con orto attivo, in modo tale che si spostano di 90 gradi. Premo ESC, dalla scheda di segna clicco sulla freccetta sotto cerchio e seleziono il comando cerchio, centro, diametro. Fate un po' di zoom, in modo tale da non sbagliare a selezionare lo snap. Lo snap da selezionare è lo snap punto finale relativo alla linea rossa. Il cerchio ha un diametro di 160 e premiamo invio. Per renderlo più visibile, modifico il colore dalle proprietà. Lo facciamo rosso. Questa linea già non serve più, la possiamo cancellare. Adesso andiamo a creare un cilindro e poi con il comando copia otteniamo tutti gli altri. Allora, vado a digitare cilindro, primo invio. Il comando cilindro mi chiede specificare il centro della base. Clicco su un quadrante del nostro cerchio rosso. Il comando cilindro adesso mi chiede specificare il raggio della base. Qui c'è scritto 4 fori diametro 30, però attenzione che il comando ci chiede il raggio. Quindi io clicco o inserisco 15 come raggio, oppure clicco su diametro e inserisco 30 e premio invio. L'altezza, io li faccio più lunghi, usciranno dalla parte inferiore della nostra puleggia. Non fa niente perché tanto poi successivamente andranno sottratti. Quindi clicco qui. Seleziono il cilindro, o tasto destro, copia e selezione, o semplicemente andate nella scheda edita e cliccate su copia. La stessa cosa. Il comando copia ci chiede di specificare il punto base. Il punto base ovviamente da specificare è il centro della base superiore del cilindro. Questo qui. E adesso possiamo andare a creare delle copie. Magari facciamo un po' di zoom. Vi avvicinate al cerchio rosso e andrete a trovare gli altri tre quadranti. Uno è questo. Un altro è questo. E l'altro è questo qui. Ovviamente tre copie. Dopodiché ci fermiamo. Quindi per uscire dal comando copia premiamo semplicemente ESC. Il cerchio possiamo già cancellarlo. Impostiamo la modalità realistico e andiamo a vedere che abbiamo creato praticamente uno, due, tre e quattro cilindri che attraversano la nostra puleggia. Quindi adesso con il comando sottrai, primo invio, il comando sottrai mi chiede selezionare gli oggetti da cui sottrarre. Allora da questo invio voglio sottrarre uno, due, tre e quattro cilindri. Premo invio ovviamente per confermare. Con orbita libera posso in un certo senso ruotare intorno al nostro solido e questo è quello che abbiamo ottenuto. Quindi ho deciso di realizzare un oggetto che abbiamo già realizzato, abbiamo fatto altre pulegge con forme diverse, dimensioni diverse, però questa qui l'abbiamo realizzata con un metodo diverso. Quindi ci sono, come ho già detto in altri video, ci sono tanti metodi per arrivare allo stesso risultato. Poi, diciamo, sta a voi scegliere il più adatto, io dico sempre il più veloce e il migliore, no? È tutto qua. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, vi invito, se non siete già iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi al canale. Buona serata.